25 milioni di euro per i comuni abruzzesi alle prese con i problemi relativi al dissesto idrogeologico. Questa mattina il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha illustrato la prima erogazione di risorse nell'ambito del piano operativo per aree tematiche del Ministero dell'Ambiente. Noi abbiamo assegnato ad oggi 175 milioni di euro e nelle prossime settimane altre 75 milioni di euro. C'è bisogno però che i piccoli comuni che sono stati indeboliti da riforme assurde oggi vengono aiutati ad avere la struttura tecnica per progettare e appaltare che non è più scontato come era nel Novecento. Per cui mentre in passato la regione si poteva limitare a rilevare i danni e assegnare risorse finanziarie adesso deve supportare i piccoli comuni nei processi amministrativi riguardanti la scelta del contraente altrimenti queste risorse finiscono in ghiacciaia dovendo anche su questo fronte aumentare il disbrigo di attività che per ordinamento non dovrebbero essere nostre perché noi dovremmo agire con il genio civile in regime di emergenza non in regime di prestazione ordinaria, di elaborazione progettuale o di scelta del contraente con la tenuta delle gare d'appalto però faremo anche questo per fare in modo che non si perda tempo. Il Presidente a margine della conferenza stampa si è anche detto dispiaciuto delle dimissioni del Premier Matteo Renzi. Mi dispiace molto ma sono anche consapevole che alle prossime elezioni riavremo Matteo Renzi correre in lungo e largo in Abruzzo per sostenere i progetti e le ambizioni degli abruzzesi.